Fileni. Futuro. Grazie ad una proposta che abbraccia carni bianche, carni rosse e uova, vogliamo diventare il punto di riferimento in Europa per le proteine animali biologiche, creando un modello di filiera rigenerativa aperta e replicabile. Una filiera che continuerà a integrare tradizione e innovazione. Come faceva Giovanni Fileni negli anni Sessanta, quando sperimentava i primi allevamenti nella Vallesina. Come continuiamo a fare oggi, quando portiamo sulla tua tavola il sapore genuino di tanti piatti pronti preparati a mano o la bontà salutare della linea buoni e bilanciati. Ma la ricetta più gustosa è il futuro. Prepariamolo insieme.